Un avelino carico, tonico, determinato e concentrato, quello che si appresta a vivere la settimana più lunga della sua stagione, quella del derby contro il Benevento. L'una di serie il partendo Lombardi ribollirà di entusiasmo per una delle partite più attese dell'intero campionato bianco-verde, quella contro la striga. E allora il tecnico senza severo pazienza insieme al suo staff sta preparando con i minimi dettagli la contesa, con sedute basate sull'atletica e sulla tecnica. Provato più volte il tandem Paterno-Gori che va verso la conferma nelle partitelle in famiglia e sono apparsi in grande spulvero anche Jacopo Dall'Oio e Raffael Russo che reclamano spazio. Problemi di abbondanza per pazienza che contro i sanniti di Auteri dovrà fare a meno però di tre elementi sicuri, squalifica per D'Ausilio e Varela Ricciardi che continuano naturalmente il loro recupero ai ati del campo. Probabile che i tre però per la prossima trasferta in casa del Tranto di Capuano saranno disponibili. Intanto mancano un centinaio di biglietti per il sold out. Sono disponibili ancora i tagliandi in tribuna. Montevergine.